Canto con Emma, otto anni, ve le spiegate, vento a favore, dalla bambina al più attempato, a fare chiaro l'entusiasmo. Valentina Nicolás, immacolata, ventenni, bella età, Luca, Silvia, Vincenzo e Michela, hanno un decennio in più, compagnia, multigenerazionale, dalle radici, donna linfa e passione, insieme risorse preziote, fantasticando ad ogni età. Fantasticanno ad ogni età. Romina, Davide e Teresa, un po' più grandi del gruppo di prima, scinzia rosa, fina delle signore, non dico l'età, ad uno ad uno ci siamo trovati, disposti a sostegno, basta un segnale, esigenze di gente comune, capace di sognare, donna e Paolo, secolo in due, io e Mario, sopra i sessanta, Antonello e Cici, con qualche anno in più, infine Gian Paolo, novant'anni suonati, vicini al canto del piccolo autore, compagnia, multigenerazionale, dalle radici, donna linfa e passione, insieme risorse preziose, fantasticando ad ogni età. Insieme la stessa strada, è contagiosa la magia che vogliamo, passione, niente di finto, mai niente, nessuno ci cambierà, fantasticando ad ogni età. Compaione La stessa strada, è contagiosa la magia che cogliamo, emozioni che fanno bene al cuore, fantasticando ad ogni età. Grazie. 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 Grazie.